prima una cosa avete sfatato la benedizione della terza batteria la terza batteria è una scusa di quelli che perdevano non esiste la terza batteria, la persona ha fatto la problema è la patata e purtroppo stavano sbattati a questo, la priglia ci sono voi non siete mai stati messi nel numero delle paure dei pavoriti anche se comunque spagno cavalla c'era, lo ricordo quando ho sentito le terre stagne con i significati di ho visto che le strughe di loro mi hanno messo delle favoriti, ho avuto il rischio sotto che il baglio avesse già preso la strada di San Lazzaro, parliamoci chiaramente. Diciamo che la piazza del piede San Lazzaro c'è un'uomo in mezzo. C'era così, per sempre la corsa, è uno dei mari validissimi. Come ho visto, per il cappotto è molto difficile, ovviamente il calcolo della probabilità non era il loro favore. Però si sono battuti bene anche quest'anno, quanto ricapremmo. Ecco, avete investito su Fantino Stigiano, su un Fantino che, insomma, a Siena ha detto di aver appeso il nerbo, il chiodo. Adesso invece diciamo che la sua carriera prosegue e mi sembra che sta proseguendo nel migliore dei modi. Certo, lui è stato lintidissimo quando ho fatto quella scelta, mi ha chiamato, ma ha detto che se non avevamo più fiducia in lui era disponibile a rinunciare. Però invece secondo me è stato un motivo in più per venire qui a fare bene. Cos'è stato. C'è stata immediatamente la fiducia proprio per il comitato, ma abbiamo avuto in un attimo di due giro a saltare in poi. Grazie. Maurizio Dazero, sindaco di Asti, un commento caldo di questo palio che ha avuto una finale a Carniopalma, anche per amici. Ha detto a Corsonezza. Eh, fu proprio disfiace, ma mi dicono che le cose evolvono al meglio. Un palio perfetto in qualsiasi punto di vista, dal punto di vista venire tutto esaurito sotto le tribune, l'affluenza delle persone nell'iniziativa della settimana del palio. Il tempo ci ha accompagnato, la corsa è andata via liscia, pulita. Probabilmente mi riservo di vedere i climatici, di vedere delle situazioni che da chi è in tribuna magari non sono due particolari che possono sfuggire. però mi sembra che tutto sia da sette. Commento da paliofilo, si diceva, si vociferava così che il palio avesse già preso la strada di San Lazzaro, il palio invece è stato incertino a lui e ti lo ha avuto. Ah, ho messo un monte tra sole nel caffè dicendo che per me il palio sembrava che andava da quella parte lì, poi ho vinto la prima batteria, quindi... Abbiamo sfatato anche il mito della terza batteria perché Santa Mare Nuova era in terza e ha vinto il palio. Così, 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 così. Sì, è vero, e a questo punto io sono contento in qualche modo per Santa Mare Nuova per il fatto che ci sia un quantino astigiano che ha vinto, come ho detto, c'è una propria semplice. Ieri oggi c'è una propria semplice, proprio il discorso che avevamo una parte più tecnica sul percorso che era simile un po' a tutte le parti. Poi in ogni cena, secondo del quantino, a seconda della dirigenza, secondo della situazione, c'è una parte più originale, più specifica su quella realtà. A Santa Mare Nuova, quando ho voluto dire qualche cosa che riguardava loro, ho fatto i complimenti per la sfilata dei bambini e l'hanno dita. Ho fatto i complimenti per la scienza del ventino. Astigiano è in una mosca bianca, ma che c'è e che speriamo possa ispirare anche i giovani, anche poi, da quella strada.